Allora raga, appurato il fatto ieri, proprio ieri, che con l'interista medio non puoi avere un contraddittorio perché hanno sempre ragione loro, cioè loro sono come quei muli, possono solo ragliare e basta, ma di calcio è inutile che ci parli perché sono gli unici che quest'anno sono riusciti a non ammettere neanche un favoritismo arbitraria, cioè per loro quest'anno hanno avuto zero favoritismi, non hanno mai ammesso nessuna situazione a loro favore e ve lo racconto io perché facendo i video sotto quelle 5-6 volte, 10 volte che ho detto che secondo me hanno aiutato l'Inter, loro non l'hanno mai ammesso una cazzo di volta, il tifoso dell'Inter è così, per fortuna dico l'interista, nonostante io abbia ammesso la superiorità dell'Inter, attenzione perché fossi come quei canali ossessionati che non ammettono mai, io l'ho ammesso e ho sempre ammesso che l'Inter è la squadra più forte del campionato, ma nonostante questo la capra interista è sempre tutto a posto perché loro devono mostrare di essere i più onesti, i più belli, loro non hanno mai favoritismi, loro hanno la difesa più forte d'Europa, il centrocampo più forte, fa niente che sono usciti con l'Atletico la squadra più scarsa dell'Atletico Madrid degli ultimi 30 anni, però loro bisogna sempre dirgli che sono i migliori, i più bravi perché se no ci rimangono male, però andiamo oltre, quello che è successo è successo, per fortuna che ho anche amici interisti che su whatsapp almeno ci puoi parlare e sono corretti e onesti. Devo segnalarvi innanzitutto il canale di Roberto Denaro 2020-24, mi ha chiesto di aiutarlo, se vi va iscrizione al canale e lasciategli un... seguitelo, seguitelo, è un rosso-nero, è un bravo ragazzo. Allora, oggi dobbiamo fare un discorso importante, visto che non ci sono tantissime notizie, la mia domanda è ma davvero valgono questo prezzo gli attaccanti che sta seguendo il Milan? Perché se abbiamo capito tutti che il Milan sta seguendo finalmente il sostituto di Chessy dopo due anni, cioè i nomi che si stanno facendo a centrocampo sono nomi di centrocampisti che dovrebbero funzionare per ovviare a questo grosso problema che il Milan ha, cioè di non avere un collante tra il centrocampo e la difesa, quindi noi subiamo sempre tante ripartenze, noi abbiamo sempre qualche voragine lì in mezzo al campo. Appurato questa cosa, e dopo parliamo anche di questi giocatori, al Milan serve una barra due punte forti, che una deve sostituire Giroud e una, secondo me, deve sostituire Jovic, o comunque dovremmo avere Giroud, cioè dovremmo avere il sostituto di Giroud, una punta più Jovic, anche se alla fine fondamentalmente abbiamo Okafor e possiamo fracrescere Camarda, che secondo me sarà mandato, se firma, sarà mandato nella seconda squadra del Milan, se partirà questo progetto. Allora, gli attaccanti ormai li sappiamo tutti i nomi che si fanno e sono Zigze e Sesco. Se noi partiamo da questa cosa, dal valore dato a Oilund, un valore folle, cioè Oilund era un giocatore che io avrei portato al Milan subito, però che è andato via dall'Atalanta per 80 milioni, un Oilund che quest'anno, all'età di 21 anni, ha fatto 20 partite e 7 gol. Cioè 80 milioni per fare 20 partite e 7 gol. Dopo, naturale, dobbiamo fare un pensiero anche per quanto riguarda il futuro. Prima o poi Oilund li fa i 20-25 gol. Allora andiamo su Zigze, sempre calcolando che il Milan ha bisogno di una punta, abbiamo sempre detto, da 20-24 gol a stagione. Una punta pronta. Zigze ha 22 anni, ha fatto 42 partite col Bologna, 42, 12 gol fatti. Una media quasi di un gol ogni quattro partite. Valore di mercato dai 50 ai 60 milioni. Un giocatore di indiscusso talento che sta facendo un ottimo campionato. Ma la mia domanda, vale 50-60 milioni se a te serve un attaccante pronto sul momento. E l'anno prossimo Zigze mi garantisce i 20-25 gol a stagione. E ve lo dico io, a me piace, piace Zigze. Se arriva Zigze è un ottimo acquisto. Cioè non è una cosa, è un discorso che dobbiamo fare noi e me lo scrivete sotto nei commenti. Calcolando che oggi il mercato sui giovani è caro. E faccio lo stesso discorso. Allora, Sesco ha fatto, non calcolo quelli con Salisburgo che aveva una media comunque di un gol ogni due partite. Ha fatto 24 partite con l'Ipsia, 7 gol. Ha una media praticamente di un gol ogni tre partite. Però ha 20 anni, due anni in meno di Zigzee. Valore del mercato. C'è una clausola recissoria. Cioè tu lo puoi andare a prendere a 50 milioni. Anche lui giovanissimo, anche lui fortissimo. Secondo me sono due attaccanti che nei prossimi anni sfonderanno sicuro sia Zigzee sia Sesco. La questione è, almeno serve una punta da 20. Cioè per me Zigzee e Sesco possono, come esploderti l'anno prossimo e farti un botto di gol, come sono comunque giovani che se non lo dovessero fare, sono giovanissimi. Cioè li devi aspettare. Ricordiamoci sempre che il Milan è una maglia pesante. E allora quello che mi dico io è 50-60 milioni tu dovresti avere una punta pronta subito, forte. È per quello che io dico sempre che al Milan servono due punte. Un usato garantito che, vi faccio un esempio, potrebbe essere Riccardi. Pronto, che non sente la pressione di San Siro e che i suoi gol li fa. E dopo Zigzee e Sesco, uno dei due, va più che bene. Però la domanda è, valgono tutti questi soldi? 50-60 milioni? Perché per me Zigzee vale un 40 milioni e per me Sesco stessa cosa. Poi capisco che il mercato è caro e quindi se vuoi un giovane in rampa di lancio costa e lo devi andare a pagare. Punto. Per quanto riguarda il centrocampo, il Milan sta puntando su, facciamo una spolveratina su Fofanà e su Turam. Uno dei due. Allora, che hanno le caratteristiche di Chessy. È inutile che ci andiamo lontano. Ormai finalmente l'hanno capito che a noi ci manca un Chessy. Dei due io preferisco Turam, che ha 23 anni, forte. È il vero Turam, forte della famiglia, del Nizza. Un giocatore che a me piace tantissimo. Corre come un pazzo e ovunque. Che fa anche qualche gol? Però se dovessi scegliere io, realmente, e sapendo che questi hanno un costo, anche questi vanno sui 40-50 milioni e il Milan vuole fare una sorta di affare alla Loftucic, alla Pulisic per quanto riguarda il centrocampo, mentre sa che dovrà spendere per quanto riguarda l'attacco, Amrabat. Secondo il mio ragionamento, Amrabat è il giocatore giusto. Ha 27 anni, quindi una certa esperienza, una certa maturità e soprattutto dopo la stagione di quest'anno il suo cartellino dovrebbe oscillare tra i 20 e i 25 milioni. C'è quel giocatore che entra nei parametri Milan. Vedremo come andrà, quale sarà la scelta, però il mio è Amrabat. Giocatore importante. Sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale e pollice in su al benzinero.